Ciao, sono Cristiano Libardi e questa è la puntata 1 di Balloon Park TV. Oggi parliamo di Pasqua. Le temperature si stanno alzando, le giornate si stanno allungando e i coordinati tavola si venderanno sempre più. In questo periodo, soprattutto nella settimana di Pasqua, i coordinati tavola avranno una bella impennata delle vendite e quindi vi presentiamo alcuni coordinati proprio per quella settimana. Cominciamo con un coordinato carino, con piatto piccolo e un simpaticissimo coniglietto, piatto grande con la scritta e tovagliolo. Naturalmente abbiamo la sua tovaglia e poi abbiamo due simpaticissimi accessori. Il primo è un centro tavola, molto molto carino e anche abbastanza grande e poi dei pendenti, confezione da tre pendenti, da utilizzare anche per le vostre decorazioni con i palloncini. Veniamo al secondo coordinato, un prodotto di Givitalia, per prima cosa ecologico, al marchio di Eco, in quanto biodegradabile, quindi ecologico. Confezione da otto pezzi e molto molto colorato. Qui c'è un abbinamento e un mix tra le decorazioni floreali e simpatiche geometrie. La cosa particolare anche è il tovagliolo con angoli smellettati, molto molto carino. Passiamo ad un altro coordinato di Givitalia. Questo è un po' più italiano, un po' più italiano, un po' più sciabbi. Anche qui il suo tovagliolo smellettato. Questa è una decorazione floreale. E poi i piatti in tre formati. Abbiamo il piatto piccolo, 21 cm, otto pezzi. Piatto grande da 27 cm, quindi un piatto molto molto grande e ha molto apprezzato. E poi, anche questo molto particolare, è la sua scodella da 24 cm, sempre otto pezzi. Veniamo al terzo coordinato. Un po' più corto, ma simpatico, con i due coniglietti e il tovagliolo floreale. E per ultimo, una linea molto simpatica, in quanto ha delle colorazioni pastello, rosa, tiffany, celeste e giallo. E con un filo d'oro all'estremità e in più è smerlettato. Veramente, veramente particolare. Naturalmente ci sono anche i bicchieri coordinati. Ed ora veniamo al clou. La cosa che a noi piace, piace molto, cioè i palloncini. Facciamo vedere un po' di palloncini in poi. Sempre tema Pasqua. Bellissimo coniglietto, con la sua scritta. E particolare perché si può abbinare anche a questo simpaticissimo mini shake. Dopodiché abbiamo questi bellissimi occhioni di questo coniglietto. E poi, questo multivalur, bello, bello, bello. Il gonfiato è molto, molto, molto grande, con uova e coniglietti. Bello, bello. Per ultimo, abbiamo anche qui simpaticissima tecorella con il suo fiocchetto. E poi abbiamo anche un articolo molto particolare. Ve lo presento. È un prodotto molto grande, molto luminoso. E particolare perché si stanno vendendo sempre e sempre più. Perché? Perché prima di tutto non c'è bisogno di avere leglio. Quindi si risparmia sotto questo aspetto. E poi è molto luminoso. Immaginatelo in una vetrina. Che bella figura potrebbe fare. Poi veniamo a degli accessori. Prima di tutto queste rosette. Che vedete anche alle mie spalle. È una confezione da tre pezzi. In tre formati diversi. E avete la possibilità di scenderle in sedici colorazioni diverse. Molto, molto particolari. Veniamo poi alle piume. Verde, gialla, fucsia e arancione. Per le decorazioni dei palloncini o delle vostre tavolate. E poi passiamo a un po' di palloncini. Il lattice. E prima di tutto vi faccio vedere. Questa decorazione fatta con degli A50 stampati a Qua e dei G110 sempre stampati a Qua. Prodotto Gemar in formato da cento pezzi. Sia per la S50 che per il G110. Colorazioni miste, assortite. Prodotto molto versatile. Da utilizzare non solo a Pasqua. Ma in qualsiasi festa. E poi la novità Gemar del 2019. Una delle novità Gemar del 2019. Si tratta di questo formato di palloncini assortiti colorati. Nelle colorazioni macaron. Palloncini grandi G110 e A50. E ragazzi, ecco qui una decorazione fatta con i colori macaron. Così li vedete da gonfi e vedrete quanto sono belli. Questa decorazione fatta dalle nostre ragazze è stata. Abbiamo utilizzato un disco in cartone. Come base. Una bacchetta maxi. Con due valvole. E poi naturalmente i palloncini macaron. E il palloncino dell'anagam. Molto molto carino. Con questi poids, con questi confetti stampati. Dopodiché. Per Pasqua abbiamo terminato. Però prima di chiudere. Volevo farvi vedere un prodotto appena arrivato. Da qualche giorno. Molto molto bello. E' un prodotto gravo. E si tratta di questi numeroni. Numeroni da un metro. Però glitterati. Beh. Già i numeroni sono dei prodotti best seller. Che si vendono da soli. Questi saranno un prodotto molto molto richiesto. Abbiamo queste quattro colorazioni. Fucsia glitterato. Gold. Sempre glitterato. Silver. E anche questo stupendo Tiffany. Ragazzi. Per oggi. Abbiamo terminato. Come al solito. Vi chiedo di mettere mi piace alla nostra pagina. Quindi. Pollice su. Cliccate anche sulla campanella. Così verrete avvisati. Ogni volta che pubblicheremo i nostri video. E poi se volete. Lasciate dei commenti. Dei suggerimenti. Dei consigli. Saranno sicuramente molto apprezzati. Vi ricordo anche. Che potete trovare qua sotto. Un link. Dove troverete tutti. Gli articoli che abbiamo presentato. Oggi. Quindi non avete bisogno. Di cercare sul nostro sito. Un articolo o un altro. Lo abbiamo raggruppato noi per voi. In questo link. Quindi cliccate sul link. Ragazzi. Vi saluto. E ci vediamo alla prossima. Ciao.